Dopo aver lavorato nel teatro dialettale genovese e, successivamente, in compagnie di importanza nazionale, esordisce nel cinema nel 1938 con il documento, film girato da Mario Camerini, e prosegue interpretando moltissimi ruoli da caratterista dal dopoguerra fino agli anni 60. Il suo volto spiccoloso, il naso pronunciato e la voce gracchiante ne fanno una figura immediatamente riconoscibile, che verrà utilizzata da molti registi in un cliché di personaggio invadente, saccente e curioso, che si ripete in svariate pellicole dal drammatico alla commedia brillante, dal sentimentale al film in costume. Tra i ruoli da lui interpretati sono da ricordare quello del Trinca in La cena delle Beffe, 1941, e quello del controllore Pignolo in Quattro passi fra le nuvole, 1942, entrambi diretti da Alessandro Blasetti, e quello dell'incisore della Zecca che, in Punto di Morte, rivela a Totò un interessante segreto in La Banda degli Onesti. 1956, Camillo Mastro 5.